Spiegando la cosa di Oscar Piastri, marca, ricordiamo anche la seduta dei piloti, che il sedile è molto rigido, il sedere è quasi per terra e le gambe sollevate, ricordiamo sempre la posizione è quella di uno appoggiato al letto con un cuscino sotto le gambe, quindi sei molto attaccato e quando prendi quel colpo lì... Sì, lo senti tanto nella schiena, lo senti tanto nel culo...